Grazie, buonasera. Io sono qui per una volta, per me è una cosa molto insolita, come rappresentante della old economy, un ruolo che non ho spesso, ma ne sono molto fiero perché sto adesso seguendo da poco meno di due anni un progetto online che è il figlio di un'operazione offline che è di grande successo. Chi di voi è di Milano molto probabilmente è stato in fiera, sicuramente ha visto la pubblicità, di questo non si scappa a dicembre. L'artigiano in fiera è la più grande fiera del mondo sull'artigianato e rappresenta l'artigianato di tutto il mondo che trova un pubblico enorme qui a Milano. Io oggi voglio parlarvi di due aspetti, uno è macro e questo dovrebbe essere un tema di sottofondo. Noi qui rappresentiamo la micro impresa e la media impresa che già per la sua dimensione, spesso anche per la sua specializzazione, non è facilmente in grado di entrare per esempio nel mondo online o nel mondo globale. L'altro vorrei raccontare alcuni dei dettagli del nostro lavoro dei ultimi mesi, dei ultimi due anni su come abbiamo creato un marketplace online che sostiene questi artigiani. Se vediamo un po' più in dettaglio e qui rimaniamo un secondo ancora sull'offline, la crescita della fiera e quel che succede là abbiamo ben chiaro che ci sono migliaia di imprese che incontrano un pubblico molto vasto di due milioni di persone. Portano qui in fiera 150 mila prodotti e rappresentano 115 paesi. Ora, quel che è molto interessante in quel contesto è che è una fiera, ma oggi tutto il giorno nessun intervento non ha parlato di un marketplace. La realtà è che una fiera è un marketplace e in tanti versi lo rappresenta e in tanti versi quel che fa l'azienda che organizza la fiera è lo stesso che fanno eBay e Amazon, cioè fornire una infrastruttura, fornire una fiera di 310 mila metri quadrati, fornire una pubblicità che funziona per tutto, fornire dei clienti che sono disposti a pagare ed aprire al singolo artigiano che sta nel suo paese dove ha un pubblico molto piccolo a raggiungere un pubblico invece molto grande. In effetti tanti dei nostri artigiani, la fiera è sempre a dicembre, iniziano a lavorare a inizio settembre a tempo pieno per riempire questi 2-3 camion che poi vendono in fiera. E questa è una cosa che funziona molto bene per loro, noi abbiamo un tranova di solo un 20%, gli altri artigiani ritornano, vuol dire il business commercialmente funziona. Dov'è il nostro limite? Anzi, i nostri limiti sono due. Noi abbiamo come fiera i limiti naturalmente dello spazio, ogni anno vediamo, perché facciamo indagini molto grandi da dove vengono le persone. Tantissimi da Milano, tanti dalla provincia, province limitrove, ma già nel Veneto è difficile che qualcuno, almeno una grande quantità di visitatori, si mobilitizza per venire da noi. Al sud siamo abbastanza sconosciuti. Questo è un limite che non possiamo modificare noi. L'altro è il tempo. Dopo nove giorni in fiera, gli artigiani sono esausti. Se aggiungiamo altre tre, sono morti. Non lo possiamo fare. Lo facciamo sotto Natale, che naturalmente è il momento club, perché i prodotti che abbiamo non sono i prodotti dell'uso quotidiano, sono le cose belle che rendono la vita più bella, più estetica, più saporita per tutti. E quindi sotto Natale naturalmente è il periodo migliore per promuoverli. Quindi la nostra azienda, con venti anni di esperienza, ha raggiunto qui dei limiti. E i nostri artigiani, anche loro, incontrano non solo dei limiti di tempo e spazio, ma anche uno svantaggio causato dall'online. Perché loro spesso producono merce che si può anche acquistare su siti online. E quindi il loro mercato locale, se non si muovono, diminuisce. E per questo motivo Gestione Fiere ha deciso di estendere il suo modello. E per fare questo nasce Artimondo. E qui adesso voglio fare un piccolo switch che chiedo alla regia di mostrare un video che noi abbiamo creato per dimostrare cosa in poi. Da vent'anni avete imparato a conoscerci come partner dell'evento più importante al mondo dedicato agli artigiani. Da oggi le opportunità aumentano con Artimondo. L'artigiano infiera tutto l'anno. Con Artimondo abbiamo portato online i valori, la filosofia e il calore di artigiano in fiera. Sono già moltissimi gli artigiani presenti all'evento che hanno scelto Artimondo come principale vetrina per i loro prodotti artigianali. E tu cosa stai aspettando? Artimondo è l'unico shop online italiano dedicato interamente all'artigianato internazionale. Un servizio pensato esclusivamente per gli espositori di AF senza alcun costo aggiuntivo. una proposta di prodotti d'elite per un pubblico raffinato, autorevole e internazionale. I vantaggi sono molti. Vieni a scoprire questo mondo insieme a noi. Artimondo è un mercato globale capace di valorizzare le vostre storie e i vostri prodotti senza limiti di visibilità, spazio e localizzazione. Presentandoti su Artimondo le potenzialità di vendita aumenteranno e potrai rispondere a un sempre più alto numero di domande provenienti da tutto il mondo. Inoltre eliminerete i costi di creazione e gestione di un sito e-commerce proprietario. Scopri com'è facile creare il tuo negozio virtuale gestendolo facilmente con la garanzia di affidabilità dei server di Jeffy SPA. Ti accompagneremo per mano anche nell'uso degli strumenti di vendita. Il marketing dei prodotti Artimondo è inoltre continuo e costante sia in Italia che all'estero grazie alle piattaforme di digital marketing e ai social media. Senza dimenticare il rapporto diretto con voi. Offriamo un sistema di controllo e monitoraggio che permette di consultare gli ordini e riassortire il magazzino sulla base delle vendite effettuate. La nostra interfaccia chiara e intuitiva permette facilmente di accettare gli ordini notificandone lo stato ai vostri clienti e di gestire lo storico delle vendite. Avrete la possibilità di accettare diversi metodi di pagamento per rendere l'esperienza del cliente flessibile e sicura. Il nostro è un servizio chiave in mano. Troverete in Artimondo un partner ideale che amplierà le vostre aspirazioni e vi faciliterà la vita. Dovrete solo preparare il pacco e consegnarlo nelle nostre mani. Un nostro corriere arriverà a ritirarlo e voi non dovrete più preoccuparvi di nulla. È tutto compreso nel 15% di fee sul prodotto venduto. Artimondo, l'artigiano in fiera tutto l'anno. Dunque, dove potevate vedere il nostro primo video promozionale non è rivolto a chi deve comprare il prodotto. È rivolto verso gli artigiani. Perché noi anche qui come nella fiera siamo un intermediario e la prima cosa che dovevamo fare era convincere gli artigiani che è una buona idea andare online. E la cosa è che tanti di loro all'inizio non erano convinti. Naturalmente lavoriamo con tante persone che sono molto molto lontani da un mondo dell'online. Anzi, alcuni quasi fieri dell'essere non nel digitale, non nell'industrializzato, non nello schematizzato, che rende anche così bello i loro prodotti. Per questo motivo noi non partiamo con l'idea che dobbiamo creare un sistema di tecnologia, ma noi dobbiamo creare un pacchetto di servizi che rende disponibile il mondo dell'online per i nostri artigiani. Quindi, dove è la cellula con la quale parte tutto? È un e-commerce marketplace. E quello abbiamo deciso di realizzare in Magento come base. Però a questo marketplace si aggiunge molto. Per esempio, tutto quel che può essere lo studio di media, di search engine optimization, user experience, tutto quel che è per esempio il marketing. Rendiamo tanti servizi di consulenza, perché tanti dei nostri artigiani sono molto bravi a vendere se hanno voi di fronte. vi spiegano cosa è il loro prodotto, vi danno un assaggio, possono far capire dove il valore è aggiunto del lavoro dei loro mani. Nell'online loro non hanno questa capacità, spesso, per il semplice fatto che non l'hanno mai fatto. Questo invece è il know-how dell'online marketing che viene creato in una maniera centralizzata da noi. I nostri artigiani non hanno accesso a tante altre cose, per esempio, conoscenza o accesso a gateway di pagamenti, condizioni favorevoli in questo settore. E la stessa cosa vale per la logistica. Anche la logistica per l'artigiano singolo, che non fa tantissime vendite, è un ostacolo nell'andare online. Infine, c'è il customer care e tutto il discorso dell'internazionalizzazione. Noi sappiamo che il Made in Italy è uno dei marchi più grandi del mondo. Probabilmente l'unico marchio molto forte globale che non è collegato direttamente ad un'azienda. È però molto molto difficile per l'azienda di piccola dimensione italiana di andare all'estero. Ci sono mille problemi che partono naturalmente con la lingua, ma poi si amplificano con una conoscenza culturale che uno deve avere per entrare in un mercato. Si collega a quel che abbiamo sentito prima, conoscenze sul pricing, abitudini di clienti e quant'altro. E poi c'è anche un discorso da fare sulla contabilità e tutto quello che è l'amministrazione intorno. Tutto questo insieme di servizi per l'artigiano singolo è molto molto difficile crearselo da solo. Anzi, è quasi un'impossibilità. E Artimondo, come avete visto nel video prima, è l'aggregato che trasforma l'esperienza del singolo artigiano in una cosa che può viaggiare in un mondo globale sotto un marchio grande. E anche qui vediamo che il marchio Artimondo, perché diventa sempre più noto, fa anche testimone alla qualità dei prodotti, che abbiamo un'ottima retention rate sui consumatori nostri, che riconoscono in partenza, nei primi mesi dalla fiera, e adesso sempre più attraverso il marchio Artimondo, la qualità del prodotto. Dunque, adesso da queste considerazioni andiamo un po' nel pratico. Magento. Perché Magento? A noi serviva una piattaforma di base molto affidabile che poteva crescere con il progetto. C'erano alcune scelte da fare dopo una valutazione approfondita e è diventato Magento. Community. Perché community? Per il semplice fatto che noi abbiamo non solo un vendor sulla piattaforma, quindi non sarebbe stata solo una licenza, noi abbiamo gli artigiani che loro, per conto, loro vendono. Noi rendiamo un servizio agli artigiani. Perciò ci siamo basati su questo. Un altro grande vantaggio per noi era che non dovevamo reinventare tutto da zero, perché l'ecosistema di Magento è talmente imponente e flessibile che ci dava già tante delle cose che erano sulla nostra wishlist personale per integrarle. E poi, naturalmente, un altro vantaggio grosso è il fatto che potevamo customizzare tante delle funzionalità che noi ci servivano, perché fare un marketplace è una cosa molto complessa. Questo lo sanno molto bene i colleghi di Webgriff, che ci hanno aiutato a mettere in piedi il marketplace che potete vedere online. Ora, noi siamo dell'opinione, questo è molto importante, per questo io ho messo proprio queste cose in due colonne, che è estremamente importante in un progetto di e-commerce, di vederlo come una cosa continua, dove chi lo fa è sempre presente, e chi lo fa dà, in un certo senso, l'anima al progetto. Soprattutto se io vado verso una personalizzazione che è forte, ho grande bisogno di specialisti che me lo portano avanti nel tempo, perché se noi vediamo le varie rivoluzioni nell'e-commerce e nell'online nei ultimi dieci anni, è chiaro che nessuno crea un sito del quale poi è contento e lo lascia così. Sono anche con noi oggi Andrea Zambone e Manuele Menozzi di Webgriff, qui nella prima fila. Se avete domande più sul tecnico, vi chiedo la cortesia di non chiedere me, ma loro, perché io probabilmente mi troverei nell'imbarazzo, loro invece no. E loro sono Magento certificati, che per noi è molto importante per avere un livello di qualità superiore, anche per il fatto che se su Arti Mondo qualcosa non va bene, il problema non è uno solo nostro, ma anche dell'artigiano al quale offriamo un servizio. E' molto importante per noi che questo servizio funziona sempre. Ed è molto importante per noi avere anche in questo progetto un partner che riesce di pensare anche fuori dei confini di Arti Mondo, Magento, perché Arti Mondo complessivo consiste da tanti elementi che sono integrazioni esterni, come possiamo vedere. Dunque, vorrei farvi a titolo esemplare alcune delle customizzazioni che abbiamo fatto nel giro di quel periodo. E la più importante è il Retrobotega Online. Questo sostanzialmente è il pannello di controllo del nostro artigiano. Lui definisce chi è, definisce il suo negozio, lui crea lì dentro il suo catalogo, definisce i suoi prezzi, e infine gestisce le ordini da lì. Questo pannello di controllo è molto molto spartano e lo è per un motivo preciso. Noi non vogliamo confondere l'artigiano, che molto spesso il nostro artigiano non ha tanto voglia di altri feature, anzi, ha grossi problemi a gestire quel che trova lì. Avevamo un caso che mi è dispiaciuto molto, un saluminiere che si è tolto dalla piattaforma perché il suo nipote si è trasferito in un'altra città per studiare. Non poteva più gestire l'e-commerce e il saluminiere che faceva un ottimo prodotto ha rinunciato all'online. Fortunatamente questo è un caso molto molto raro. La maggio parte dei artigiani accoglie, appena arrivano i primi ordini scatta l'interesse vero, approfondisce. E qui è molto importante che questo back office qui ci serve anche per comunicare con l'artigiano, perché questo è un grande problema. Se io ho centinaia di artigiani, devo cercare di formarli, devo cercare di creare uniformità sul mio sito, nella presentazione del prodotto, nella descrizione del prodotto, se posso anche nel pricing, nel modo delle promozioni. E a tutto questo serve questo retroprodeca, dove l'artigiano per forza entra ogni volta che gli arriva un ordine, che è molto importante. Un'altra costumizzazione che era molto importante, che è un vantaggio grande, come anche una sfida importante di un marketplace, è sempre la logistica che per noi inizia con l'ordine che ha fatto il cliente qui. Perché un marketplace si basa sul fatto che non c'è un magazzino, ci sono in realtà tutti gli artigiani che ognuno vende per il conto suo. Noi però abbiamo sul nostro sito un singolo carello, e questo vuol dire che spesso c'è il caso che un cliente vuole comprare, mettiamo una bottiglia di grappa da un artigiano, e un salume da un altro, o un tavolo da un artigiano e la tovaglia da un altro. Le possibilità sono infinite. Appena arrivano questi ordini, che sono ordini nel classico senso di magento, noi dobbiamo fare qualcosa. Noi dobbiamo fare uno split, e creare dei ordini che sono specifici per i singoli venditori. Ed è precisamente quello che succede qui. Di questo il nostro cliente ha solo una vaga nozione, nel momento del check out, perché gli arriva una e-mail nella quale gli scriviamo, tu hai fatto questi ordini, ti arriverà dall'artigiano A questa merce, dall'artigiano B questa merce, e dall'artigiano C questa. Possono essere N. Poi scatta un'altra cosa che è importante, tre spedizioni diversi, che è inevitabile, ed è il modello distribuito. Per questo motivo noi abbiamo creato per gli artigiani tutta una struttura all'interno del retro bottega, dove loro con un singolo clic possono prenotare il corriere. Quindi cerchiamo di ridurre al minimo un possibile ostacolo che potrebbe ritardare la consegna. Un'altra cosa che abbiamo creato è un ufficio di logistica nostro, che anche telefonicamente segue gli artigiani per assicurare che la user experience è ottima. Naturalmente per fare questo step è importante un'integrazione con i corrieri che usiamo, che sono tanti, perché noi abbiamo delle spedizioni diversissime da gestire, come tutti di voi sanno, che lavorano molto con i corrieri. ognun corriere è bravo a fare una cosa o due. Almeno purtroppo per la mia esperienza non ho ancora trovato uno che mi fa tutto bene a un prezzo che mi piace. Per questo motivo abbiamo qui una gestione automatica che sceglie, dalle offerte che noi conosciamo e abbiamo, la miglior condizione commerciale per noi e di qualità di tempo di consegna per il nostro cliente. Un impatto importante in tutto ciò naturalmente vediamo nel Magento Admin Panel dove abbiamo una sezione per i nostri collaboratori proprio di arti mondo. Questa parte qui è nuova, questo non esiste in un Magento out of the box e gestisce tutti gli oggetti che abbiamo dovuto aggiungere nella nostra customizzazione. Adesso abbiamo i vendors, cioè i singoli artigiani, i quali possono avere i loro ordini, i loro prodotti e i loro refund quando arrivano. E un'altra cosa che è molto importante e che viene spesso sottovalutato in un ambito di e-commerce è il lato della gestione. Il gestionale spesso è un tema che si evita perché è meno sexy di marketing, meno bello dei grafici della crescita delle vendite, però è essenziale, soprattutto nel nostro caso che creiamo documenti fiscali per i nostri artigiani che poi li integrano nella loro contabilità. Lavoriamo con il gestionale Zucchetti che fa tutti questi calcoli fiscali per il nostro sistema e anche qui l'integrazione è completamente basata su un'integrazione automatica che gestisce tutti questi flussi. All'altro lato naturalmente abbiamo la interfaccia del nostro sito. Anche qui ci sono stati numerose implementazioni che rendono particolare il nostro sito e che non potevamo avere in un magento standard. soprattutto una delle caratteristiche di artigiano in fiera e di conseguenza di arti mondo di funzionare per dire per regione. Quindi abbiamo creato un modo di navigazione nuovo che permette all'utente di trovare i prodotti della sua regione o dal suo paese preferito che è un insieme dei prodotti dei nostri artigiani siciliani in questo caso. Questo tra l'altro ha anche ottimi effetti SEO per il nostro sito. E poi c'è anche il lato della presentazione dell'artigiano perché lui con il suo negozio ci racconta la sua storia ci mostra il suo staff ci mostra il suo laboratorio il suo modo di lavorare. Queste cose abbiamo implementato finora e tutto questo è un lavoro in evoluzione con una lista di desideri miei molto grandi poi ogni 3-4 mesi con stupore vedo quanto è stato realizzato e quanto rimane ancora. Adesso siamo quasi alla fine quindi un outlook. Questo progetto è un progetto in evoluzione in continua evoluzione quindi sicuramente il lavoro continuo continuativo di miglioramento e di ottimizzazione rimane con noi. Questo anno anche sempre facendo leva su quel che abbiamo già fatto andremo a lanciare i siti in Francia e in Spagna coprendo così la maggior parte della Unione Europea. Un'altra cosa che nasce soprattutto perché otteniamo dall'estero tantissime richieste da aziende che sono interessate al prodotto nostro soprattutto dei artigiani italiani un artimondo B2B che naturalmente tutto può agire intorno a questo hub di Magento intorno a questo catalogo che abbiamo creato e si potenzia in quel senso io vorrei nemmeno tanto più distinguere tra e-commerce e commerce perché la realtà delle cose di tante aziende anche di quelle che abbiamo visto oggi è che parliamo di commerce l'online B2C l'online B2B l'offline come fiera l'offline come negozio sono tutti possibilità di vendere e anche qui vediamo che le cose si molteplicano che un sito pensato per una promozione B2C diventa una leva per fare delle vendite B2B offline e già in questo momento anche via i modi più tradizionali cioè il telefono inoltre e sempre trainato da queste considerazioni o da queste occasioni che troviamo siamo in contatto anzi in progetti abbastanza avanzati a portare artimondo anche fuori dalla Unione Europea con tutti i problemi che porta lato logistica lato marketing lato lingue lato cultura e per questo motivo lavoriamo in quasi tutti i casi con partner locali che comunque però usano già adesso per informarsi per prepararsi il nostro catalogo i nostri sistemi online quindi un ulteriore modo ad avere valore da cose che abbiamo già creato per un progetto che è partito con un'intenzione diversa e poi uno dei ultimi progetti ambiziosi che mettiamo in opera e che è già funzionale adesso da due giorni in una maniera molto sperimentale e il nostro hub logistico a Milano perché vorremmo fare una specie di best of both worlds dove prendiamo per la maggior parte del nostro progetto il sistema decentralizzato e daremo però ai artigiani la possibilità di dare la loro merce a noi affidandoci anche il magazzino che ci darà la possibilità di spedire tutto da un unico posto qui da Milano risparmiare così in spese di spedizione avendo un più grande controllo sul magazzino e soprattutto liberando le risorse dell'artigiano che adesso non deve più fare i pacchi lui e aspettare il corriere lui ma può continuare lui a fare le cose che sa fare meglio cioè le sue opere con le sue mani questo solo per darvi un'idea come una cosa che funziona che inizia con un progetto molto ben delineato preciso trovando nella nella sua crescita e nella sua evoluzione sempre nuovi modi per migliorare e espandersi finisco qui con Artimondo che è disponibile tutto l'anno e con le date che a voi sembra presto adesso ma vi assicuro dicembre e dopo domani della prossima edizione qui a Milano che sicuramente diventa di nuovo una festa di colori e sapori l'anteprima la vedete invece già adesso online grazie grazie